Vi faccio una piccola video recensione di questa statuina del Buddha è una statuina che sembra essere di bronzo, di metallo, rame ma in realtà è una statuina in poliresina un materiale ovviamente plasticoso non so se avete magari qualche acquario a casa per il pesce o qualche acquaterrario, i tronchi o comunque quei materiali spesso sono in poliresina è il Buddha in preghiera con un piede sopra l'altro che ha dei significati dietro e comunque potete vedere i dettagli che sono veramente fatti bene è molto curata, come grandezza non è piccola quindi vi dico subito abbiamo all'incirca un 20 cm, 22 cm di altezza e un 12 cm, 13 cm di larghezza bella da mettere magari sul proprio comodino o come abbenimento e soprattutto è fatta bene, curata nei dettagli se siete interessati ad acquistarla vi lascio il link dove l'ho acquistata io e lasciate pure un commento